Amici di Radio Bruno, eccoci pronti ad un nuovo incontro con un'altra artista. La vedete alla nostra spalle? E lei Alessandro Amoroso. Ma che sguardo avranno i ragazzi che hanno vinto l'incontro con Alessandro Amoroso poco prima di incontrarla? Andiamo a vederli? Stiamo entrando con i vincitori. Venite ragazzi, andiamo. Tutto bene? Venite da posto. Agitate. Ragazzi, com'è andato l'incontro? Alla grande, bellissima, meravigliosa. Fantastico. Strepitosa, emozionante, batti il cuore. Vediamo l'ora di goderci il concerto e quindi è stato un bel preconcerto. Bellissimo, super regalo di compleanno. Sì. Grande. Amici di Radio Bruno, siamo qui con la vostra amica Alessandro Amoroso che voleva salutarvi. Tutti non ci stavamo in macchina con me. È vero, un po' difficile. Io faccio un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bruno perché sono sicura che sono della grande big family. A mio modo vi amo e vi ringrazio sempre. Ciao.